benvenuti in questo nuovo video oggi vi parlerò di una delle tante disfunzioni di una delle tante anomalie che riguardano il settore dell'orologeria contemporanea e che a me pare palese ma evidentemente è probabile anche che sia io sbagliare qualche tempo fa in uno di questi video io vi avevo detto che effettivamente si producono troppi orologi troppi orologi rispetto a quelli che il mercato è in grado di assorbire e vi avevo fatto delle cifre che già erano molto eloquenti su come le vendite siano in crollo negli ultimi sei sette già negli ultimi sei anni prima del covid ora col covid sono crollate ancora di più però diciamo che quelle del covid facciamo in conto che in qualche modo vengano recuperati una volta che la crisi del covid sia superata dappertutto ma non sarà non sarà non credo accadrà breve e non è nemmeno detto che poi i consumatori riprendano identiche le abitudini di consumo precedenti ma ora pongo un'altra questione mi permetto di porvi un'altra questione sempre alla discussione alla valutazione secondo me ci sono troppe preferenze e troppe collezioni nelle gambe soprattutto dei grandi marchi commerciali dico questo perché allora prima di tutto c'è un'anomalia se parliamo ad esempio di automobili che certo sono però bene registrati la cui vendita viene registrata noi siamo in grado di sapere quali modelli vengono venduti e dove ma anche per altri beni che non sono registrati questi dati sono disponibili per l'orologeria no per questa grande industria del lusso no non si può sapere non si può sapere esattamente quanti orologi vengono costruiti non si può sapere esattamente quali collezioni vengano vendute non si può nemmeno sapere quante quante referenze vengono vendute in tutto e quali e dove che sono dati essenziali allora io ovviamente non ho dati che non vengono dati e sui quali invece secondo me i consumatori e i collezionisti o coloro che si ritengono tali avrebbero tutto il diritto di sapere conoscere per deliberare appunto anche scelte di acquisto no no per chi insegue gli investimenti che io continuo a ritenere in questo settore non ci siano ci sono i colpi di fortuna più che gli investimenti per il resto c'è una gran annas per periodi denaro e di perdite di valore nell'acquisto del nuovo e soprattutto se poi si acquista listino vicino al listino cosa da evitare assolutamente che io sconsiglio assolutamente ma questo sarà argomento di un altro video in realtà è già stato registrato mesi fa e lo vedrete presto in programmazione ma da quello che si capisce da parlando con rivenditori con concessionari grandi già da anni quindi ancora prima delle ultime crisi di fatto soprattutto nei mercati a noi più vicini quelli che possiamo conoscere di più guardate che le collezioni così vengono chiamate le famiglie che raggruppano più referenze e le referenze vendute per ogni marchio quando va bene quando ce ne sono di più vendute sono poche sono che sono pochissime infatti c'è stata una risposta dell'industria nel senso che diversi grandi costruttori cito tra tutti forse la prima il primo grande costruttore che ha fatto una riduzione opportuna di collezioni e referenze è stato de marpighè che passò da oltre 200 referenze a 80 e forse oggi le ha ridotte ancora di più è constatando che poi la più parte non vende ma non è che non venda perché non sono orologi validi non vende per le più svariate ragioni perché il pubblico non è interessato non piace l'estetico oppure si preferisce un'estetica diversa un modello diverso le ragioni possono essere veramente le più diverse sta di fatto che se prendiamo tutti i grandi marchi commerciali voi vedete che hanno a listino una quantità di referenze che letteralmente non si vendono e certo qualcuno potrebbe obiettare che avere queste referenze potrebbe servire comunque per esempio a un costruttore indipendente per esempio supponiamo che si affermi un costruttore indipendente che sia un grande marchio chiedo scusa che sia un costruttore appunto che si presenti come un grande orologiaio non grande marchio abbiate pazienza e pietà beh in quel caso un grande orologiaio fa vedere il suo savorfeo cimentandosi in tanti orologi diversi con complicazioni meccaniche diverse magari innovative prendiamo Jun ha fatto una quantità incredibile di orologi diversi poi attenzione non li ha tutti in produzione ne ha una piccola parte in produzione ogni anno però lì è anche un far vedere cioè quei modelli anche se magari hanno una richiesta minima sul mercato rispetto ad altri però servono a dimostrare un no out un savorfear che è proprio dello watchmaking ma per quanto riguarda marchi già affermate in cui non è che la presenza di una forma di cassa diversa costituiti debbano debba essere posta dimostrazione di un saper fare no stiamo parlando che so di vacheron costantenne o demar piguet patec philippe ma possiamo anche scendere di gamma è e anche salire volendo allora queste referenze con tutte queste referenze tutte queste collezioni a cosa ci stanno a fare se non si vendono certo ci sono collezioni femminili e quello è un mercato interessante io l'ho già detto in un video che è già stato visto anche che in realtà l'orologeria femminile sta conoscendo una evoluzione interessante cioè paradossalmente in una situazione un po di stasi di grigiore nell'orologeria femminile si è visto un plus di creatività che non va sottovalutato e c'è un mercato interessante perché un po anticiclico perché essendo l'orologio femminile un po più gioiello vende anche quando l'orologio tradizionale maschile è in crisi questo almeno è quello che dicono le case e infatti se ci guardate nessuna casa rinuncia più a quel tipo di mercato anche quelle che sono state più refrattali ormai ci sono dentro tutti ma di tutto il resto boh allora io dico va bene certo il mercato è globalizzato ma dei gusti locali a volte ma anche lì i conti non tornano io sono sicuro che moltissime collezioni e referenze non vendano da nessuna parte o comunque vendano poco e nulla perché ne ho fatto una questione anche di mancata chiarezza doverosa verso i collezionisti perché insomma sapere i numeri di produzione di vendita è importante per chi volesse tra virgolette investire visto che in questi settori i grandi attori i protagonisti non sanno fare altro che parlare di investimento ma allora siano serie chiari con i propri collezionisti e raccoglitori e dicano loro chiaramente guardate che di questo noi faremo tot noi abbiamo fatto l'anno scorso tot a parte ripeto le serie limitate quelle veramente limitate cioè quelle numerate in realtà io penso che in gran parte il problema è sempre lo stesso cioè in realtà non si vendono referenze e collezioni perché il mercato non assorbe tanto l'orologeria del lusso quindi perché il mercato è troppo pieno di offerta ed è scarso di domanda rispetto all'offerta quindi è questo è un'altra delle manifestazioni di un settore che è profondamente in crisi ma questo settore a differenza di altri che pure richiede investimenti economici elevati ha pretese di durare nell'eterno e ha ambizioni alte di soddisfare persino acquisti durevoli oltre il concetto di bene durevole vigente vigente in altri settori eppure tutto questo manca persino di chiarezza e di trasparenza e quindi poi vediamo l'affollarsi anche di prodotti a volte persino interessanti ma che il mercato non assorbe più e quindi poi sono quei prodotti che i concessionari ufficiali sono costretti ad acquistare poi magari finiscono i reseller magari assieme anche ad altra roba che ha più mercato è tutto un meccanismo drogato lo stesso fatto che i concessionari debbano acquistare ogni anno per contratto tutta una gamma di prodotti sempre una gamma elaborata già spiega perché ci sono tante referenze perché tanto i produttori li scaricano sui concessionari cioè avendo una gamma fanno comprare loro anche quelle referenze per contratto che non si vendono sul mercato è però poi concessionario li paga e rimangono questi orologi sul suo gruppone finché magari non li vende a reseller ma è possibile andare avanti tanto così ma soprattutto non sarebbe tempo di fare chiarezza anche su questi aspetti ma soprattutto voglio dire ma l'unione europea non sarebbe tempo che pretendesse dalla svizzera un po di chiarezza su tanti aspetti relativi a questo settore dell'orologeria cioè può l'unione europea che è il mercato unico più grande al mondo avere paura della svizzera al punto tale da non osare nemmeno chiedere e pretendere per esempio sul caso dei ricambi la tutela dei consumatori per esempio oppure ripeto i numeri delle produzioni possibile che l'unione europea sulla svizzera non riesca a farsi sentire ma che rapporti ci sono fra il resto cioè il resto d'europa la ue che è un'altra cosa e la svizzera che rapporti ci sono veramente cosa fa la svizzera per essere così libera di fare cose che ad altre realtà non è concesso io lo lascio come interrogativo ognuno si dia una sua risposta io alcuni elementi ho l'impressione di averli capiti ma poiché non ne sono certo preferisco lasciare spazio alle vostre idee e alla vostra immaginazione vi ringrazio e al prossimo video ciao ciao